Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Lucas e oggi ragazziamo nel primo video della stagione 6, capitolo 2 di Fortnite Ragazzi, adesso vedete tutta la mia reazione, io non so niente su questa season, andremo pure a scioppare il pass E reagiremo pure al pass, andremo a fare una partita, magari atteneremo in un nuovo posto E adesso aspettiamo soltanto che si connette il gioco, vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di condividere il video E raga, è il momento di entrare nella modalità, credo, di Jonesy Vabbè raga, detto questo, iniziamo, ok? Raga, raga, oddio, ok? Perfetto Mamma mia raga A uno di vita, raga, vabbè Ok, intanto qua Sono tutti cacciatori Lo xenomorfo E sarà Connor Credo Poi c'è Terminator Raga, non mi ricordo bene tutti i nomi Perché non conosco tutti quanti Vabbè, Mancake Eh, Kratos Predator Eh, e mia oscolo Ahahahah Bananita No raga, se c'è il suo stile per Jonesy Così, così con la banana addosso serve troppo bello Purtroppo mi sa di no Oh, nitroglicerina raga Mamma mia Meno mai che si è salvato E ora il punto zero Vediamo che succede Raga, sistemato No, invece no Invece no Invece no Invece no Mamma mia No raga Un altro meteorite come nel capitolo 1 No, per favore Ha funzionato davvero Io ho paura di sto meteorite Ve lo dico È tipo un'astronave Eh, sì raga È il viaggiatore, se non sbaglio Senti, so che non hai motivo di fidarti di me ma Oh no Aspetta Parliamo Parliamo Geno Posso portarti Geno E le sorelle? Posso portarti tutti Ma dovrai aiutarmi a riparare quel coso A fare fatto Per ora Raga, adesso ci dovrebbe essere Credo Finalmente l'evento Un giocatore singolo stavolta Wow Sì, perfetto Perché vedo il ping Di FPS Ok Non farmene pentire E fa preparare quel looper Non abbiamo molto tempo Looper Di nuovo tu Ok raga Ok, non posso avvicinarmi più di tanto Cos'hai fatto al punto zero Non è colpa mia C'è stato Ragà no Cos'è? È tutto ingarbogliato Non so se posso aggiustarmi Non ci arrenderemo Perché ha parlato di arrendersi? Aspetta Quando il punto zero inizierà a crescere Non si potrà tornare No No Vabbè raga Sta esplodendo Ci sono dei portali Non va bene Quelli non sono portali La realtà sta andando in pezzi Quindi Ci siamo Ah, non possiamo avvicinarci Ok, ci pensiamo noi Ok, non ho nulla io Posso solo altro guardare Ora l'instabilità Non sono peggiorare Attenzione alle ondate di realtà Andate di realtà? Ok Ma No raga No raga Ma questa è una skin del pass? Raga Raga Ok, mi hanno cambiato skin Su ci sta un botto Certo che sì Andiamo Ok Che sta succedendo? Ah Perfetto Devo chiudere i portali Portali in vista Perfetto Si fa così A quanto pare Prossimo portale No, non sono altri portali Ma mi servirà più tempo Ma mi servirà più tempo Non ho preparati Ricevuto Vedo altri tre portali Ma il prossimo è molto lontano Se solo potessi muovo Oh 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 Ma cosa? Posso se le trasportarvi? Bello Dobbiamo evitare i cacciatori Oh no raga No vabbè No Raga Come l'ho detto? Un'altra skin del pass? Ma cos'è raga? Ah tipo Sembra Un uovo di pass No raga Guardate Ok Un altro portale Eccolo lì Perfetto Raga I lupi Mamma mia Le realtà alternative Si fanno strada Meglio se ci muoviamo No raga Se c'è i lupi In sta season È top la cosa No No raga Allora Ma questa è la skin Di un videogioco Che non mi ricordo Di quale sono scordi il nome Tomb Raider forse No vabbè ma che forza Scegli punto zero raga Vabbè raga che bello stai dentro Forse il più bello è il vento di sempre Oh no 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 Ce l'ho fatta raga Mamma mia Ce l'ho fatta Vediamo Forse si sta chiudendo No è esploso No Ok Ci siamo salvati? No raga vabbè che bello Ma che sta facendo? No raga No 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 Incredibile Non capisco che dobbiamo fare Ah dobbiamo avvicinarci Credo Ok No raga Come nel capitolo 1 No vabbè Ma ok Ok saliamo velocemente Raga siamo al punto 0 Cosa dobbiamo fare? No raga Che succede? Non ho capisco che cosa succede? Non ho capito niente C'è dentro chiuso il visitatore Credo che si chiami Ecco forse è visitatore e non viaggiatore E raga È finito l'evento Raga Pazzesco Incredibile Vabbè ragazzi È finito tutto Il trailer Lo vediamo in caso della prossima season No Va bene lo vediamo ora E la prossima season vedremo il gioco Eccola La skin quella che dicevo prima Raga scusate per la qualità Non so perché Mi ha Me l'ha bastata Non lo so Vabbè fa niente Spero che vi voglia bene No vabbè raga No ma che bel Che bel pass No Ah Eccola Questa quella skin del prima È tipo No vabbè raga La skin troll Migliore di sempre L'isola è diventata selvaggia Devi farlo anche tu Raga bellissimo E direi che adesso possiamo finire E ci vediamo nella prossima parte Ciao 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 Ciao